come si fanno riprese professionali di basket pronti comunque però non ti uccidere spettacolare mi faccio far vedere tutto qua così guarda che deficiente la call of duty da solo oh cazzo non riesco neanche stare in piedi per il passaggio era per fabio l'importante è che non ti ammazzi perfetto e anche queste riprese le abbiamo portate con successo a casa perché c'è un microfono che sta volando vabbè ciao a posto